Si dice esperienza, stiamo facendo l'esperienza del territorio a livello, diciamo così, turistico ma anche enogastronomico, perché così si capisce, si capisce come sono le radici dell'ulivo ben piantate nel territorio ligure. La passeggiata serve perché vieni a contatto con questo ambiente, con questo paesaggio ma anche con questa realtà, che è una realtà economica, un ecosistema dove il muretto nei secoli ha tenuto il territorio e adesso tiene l'identità di questo posto, che è rappresentata dall'olio e che si sviluppa attraverso il turismo e quindi diciamo che c'è un ecosistema che si tiene.